salve agli amici tuttubi sono francesco e bentornati nella soffetta di camera mio benvenuti se la prima volta che venite a visitarla settimana scorsa non mi ricordo se ho fatto un video a tema dc ma questa settimana qui rimedio almeno in parte poi settimana prossima probabilmente non usciranno due con un video dedicato ai titani di denabnet volume 4 dal titolo titans apart titans apart quindi i titani che si separano i titani che prendono strade differenti strade diverse un volume che contiene i capitoli dal se non ricordo male 19 al 22 quindi quattro capitoli più uno speciale che è andato a chiudere lo story arc di questo volume nello specifico in vista poi del rilancio new justice che proseguirà sempre con denabnet ai testi e un nuovo team di squadra perlomeno anche di disegnatore non mi ricordo chi disegnerà la serie però va bene così e disegni di questo volume abbiamo paul pellettier disegnatore che non mi è piaciuto molto uno stile molto pieno molto confuso non preciso che magari qualcuno può piacere ma me non ha convinto particolarmente mi è sembrato un po sottotono rispetto ai disegnatori a brett boot che mi è piaciuto molto di più per quanto sia spesso assai più criticato volume che quindi ci racconta che cosa principalmente un volume che non ha avuto senso per me questo volume qui non ha fatto senso nel senso questo volume di questo volume non mi ha convinto denabnet mi ha deluso parecchio con questo titans apart e questo perché perché se i primi il primo il terzo volume mi erano piaciuti molto il secondo era un arco di transizione che ci stava alla grande come arco di transizione comunque piuttosto vincente questo è un evidente arco di un arco di transizione in vista di un del crossover no justice che poi aveva portato ad una nuova formazione e che non sapevano come riempire quello spazio e quindi si è creato questo titans apart e a me pare piuttosto evidente che sia successo qualcosa del genere perché perché nel primissimo capitolo di questo volume abbiamo la justice league che probabilmente in realtà volevano già sciogliere lì cioè il no justice doveva già essere lì poi cos'è successo è successo che per qualche motivo probabilmente metal ha tardato qualche settimana tardando si è ritardato un po tutto il processo e quindi denabnet abbia dovuto correggere il tiro creando un arco narrativo senza poi chissà quali basi solide perché davvero la storia non ha motivo di esserci andiamo con calma il primo capitolo è forse quello meglio riuscito per quanto piuttosto fallace perché il riferimento agli eventi di e judas among gas quindi il volume precedente interviene la justice league intimando lo scioglimento di titani perché i titani visto che sono amici visto che sono così legati non sono in grado di far fronte alle difficoltà che potrebbero avere come squadra per tutta una serie di in realtà non è che ci siano poi molti e siccome siete amici non siete lucidi quando si tratta di ragionare su di voi quindi come squadra non funzionate siccome potete essere una minaccia allora vi dovete sciogliere sinceramente anche no cioè mi sembra proprio buttata lì poi dalla justice league che interviene così in maniera diretta e non cerca di ok e poi cosa succede niente succede che roe harper ha la sua missione principale per cercare di fermare un cartello della droga dove incontra anche altri tipi e informa principalmente donna troi donna troi informa un paio di un paio di non tutti i titani un paio di elementi di titani la squadra si è sciolta perché la justice league ha imposto di sciogliersi e nightwing ha consentito lo scioglimento dei titani quindi gli altri non hanno non hanno voce non hanno potere decisionale il che è ancora più paradossale posso capire donna troi lo capisco che insomma aveva certe cose da fare quindi era giusto che non venisse però gli altri non ha motivo e quindi boh e niente si affronta questa minaccia che sinceramente sembra provenire da una qualche storia che dovrei conoscere perché se ne da così da molto troppo per scontato su questi personaggi ancora ancora una cacciatrice che una con cui poi roe harper avrà principalmente a che fare che è più un agente di questa minaccia di questo titans apart ma la minaccia in sé sembra che ti diano per scontato che te quando li vedi li conosci che ci può stare non dico che non sia così però in questi quattro volumi non mi pare che siano mai comparsi questi personaggi e se anche erano dei new 52 non capisco quando non mi sembra neanche e insomma c'è sta minaccia sti tipi che fanno qualche piano strano i nostri che intervengono e fine fine nel senso che alla fine c'è un po un ribaltamento con il tentativo di titani di rialzarsi come squadra ma tanto sappiamo già che non saranno più una squadra nel immediato futuro con il prossimo volume e quindi c'è parecchio sono rimasto parecchio deluso cioè aver preferito un arco come questo non finalizzato alla la squadra di titani si scioglie poi ricollaborano insieme e vedere che potrebbero avere successo insieme avrei gradito decisamente di più l'esatto contrario vederli fallire insieme dimostrando che quindi la justice league aveva ragione a separarli dimostrando che aveva avevano ragione effettivamente la squadra aveva avuto più senso che si sarebbe sciolta e si sarebbe riformata in una qualche altra maniera così no così è proprio buttata lì è un sì noi siamo titani saremo sempre i titani e poi il volume dopo non siete più voi non lo so pare pare proprio una cosa sbagliata quindi non capisco dove sia effettivamente vi dico il primo capitolo per quanto fosse una super cazzola perché non aveva senso la motivazione che che dava la justice league per lo scioglimento della squadra però se la serie si fosse fermata lì un po buttata lì come motivazione però lo posso accettare il fatto che si prosegua rende tutto insensato come se ripeto den abnet non avesse intenzione di fare quello story arc ma si fosse trovato nella condizione di doverlo fare a tutti i costi e quindi ha dovuto buttare su qualcosa improvvisato e basta non è in realtà molto altro da dire avete letto questo volume questo arco narrativo dei titani che cosa ne pensate nel caso scrivetemelo qui sotto nello spazio commenti qui da francesco proprio nei miei spazi dalla soffitta di camera meno più soffitta è tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao 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 ciao